Hola hermanos. Cerco il seno attraverso NT 26 marzo 2023. Miguel. 58,19. Miguel deve fare un'azione, non vi spaventate, deve dissipare le ultime energie, quindi non fate caso a rumori o luci. Nel gabinetto medianico si vedono numerosi fenomeni luminosi colorati, accompagnati da forti rap. Commento. Al termine delle riunioni dello strumento romano Demofilo Fidani, le entità lo facevano levitare con la sua poltrona fino al soffitto per consumare le energie residue.